è orribile sì, confermo, confermo non capisco come Jade abbia potuto comprarmi un orrore simile a me non sembra tanto brutto Federico, sei ancora qua, non devi andare sto dando una mano a Vilo mi stanno già aiutando loro due, Federico, non lo vedi? mi sento indesiderato ma no, è che... per favore, è una serata tra ragazze, capisci? non dovresti essere qua ciao ciao perché non ti provi l'altro, Vilo? va bene a chi telefoni? telefono a Seba, lo sto cercando da ore però non mi richiama se n'è andato oggi, sembra che già mi abbia dimenticato non puoi pensare sempre male del prossimo se Seba è in tournée non può stare al telefono tutto il tempo, non credi? senti chi parla di pensare male del suo prossimo ehi, io mi fido di Marco, non mi fido della sua ex ragazza li ho osservati a lungo e ti dico che tra loro, non lo so, sento che lei continua ad amarlo, hanno uno strano rapporto strano ragazze, vi piace? ah, quel vestito è strano è strano bello o strano orrendo? è strano come la relazione tra Marco e Anna puoi smetterla di pensare a Marco Francesca, Marco ti ama te lo dimostra tutto il tempo Anna e Marco sono... ex sono ex sono ex come te, Leon non mi avete detto cosa ve ne pare? vi piace? e ne ho un altro da mostrarvi e non è carino? no es minuscate ogni piano non è è .